Ha preso il via l'iter che porterà entro la fine dell'anno alla soppressione della Zurmark e alla creazione di 5 aziende sanitarie territoriali con personalità giuridica. Marche Nord perderà il suo status di azienda ospedaliera e verrà inglobata nell'asta di Pesero Urbino. Resteranno invece Torrette e Lirca di Ancona. Dopo la presentazione ufficiale della riorganizzazione avvenuta il 6 luglio scorso, il governatore e l'assessore alla sanità, Filippo Saltamartini, hanno iniziato ad illustrarla alle varie realtà. Questa mattina hanno incontrato gli operatori di Marche Nord nell'auditorium dell'Università dell'Età Libera a Pesero. Nonostante il sindaco Matteo Ricci abbia annunciato una battaglia per far cambiare idea alla regione, Acquaroli riferisce di un confronto costruttivo con i sanitari. È emerso una curiosità, un apprezzamento per la nostra iniziativa e tante tante proposte e un'interlocuzione che è sicuramente utile. A noi per spiegare bene quello che è il cuore pulsante di questa riforma e a noi anche per raccogliere le proposte. Ma credo che sia stata molto utile anche per loro per cogliere lo spirito di questa riforma che è aggiungere più competitività e adeguare le aziende ospedaliere alla sfida che comporta l'anno che corre 2022. Acquaroli infatti ha ribadito che i servizi sanitari devono essere adeguate alle esigenze attuali tenendo conto della denatalità, dell'invecchiamento della popolazione e dello spopolamento delle aree interne. Questa riforma ha detto all'obiettivo di semplificare il sistema e di restituire certezze ai territori. Sulla mobilità passiva poi il Presidente ha ricordato che la provincia pesarese è quella che ne risente di più e che un 50% del totale si rivolge all'Emilia Romagna. La colpa per il Governatore è della mancata organizzazione nel dare risposte. Il rapporto, l'interlocuzione tra l'ospedale e il territorio è fondamentale. È fondamentale sia per dare risposte immediate ma anche per costruire azioni di prevenzione. E credo che la sanità debba sempre di più dialogare e farlo in maniera costruttiva. Il senso, il cuore di questa riforma è proprio quello di voler mettere in campo maggiori risorse e ottimizzare quelle esistenti e non di togliere o addirittura di andare a dividere. Quindi da tre governance a una, come ha detto lei? Sì, di fatto. Basta vedere l'organigramma della sanità nella nostra regione. Nell'azienda Marche Nord, poi Area Vasta 1 e Asur abbiamo tre livelli di governance. Quando noi facciamo un incontro per parlare della sanità in provincia di Pesaro Albino, parliamo con tre direttori. Uno di Area Vasta e due generali. Credo che oggi si va a semplificare e a costruire un unico interlocutore che poi deve, con la sua squadra, dare le risposte all'azienda, agli ospedali e al territorio. Protagonisti anche i sindaci e i cittadini. I primi, tramite le conferenze di sindaci, verranno informati sui bilanci e sugli atti di programmazione e potranno esprimere un giudizio sull'operato dei nuovi direttori generali. Stessa cosa potranno fare i pazienti che avranno a disposizione un ufficio relazioni con il pubblico. Questo è molto importante per andare a capire come e dove programmare le azioni future e come e anche dove strutturare delle azioni specifiche. Credo che il cittadino è l'interlocutore essenziale perché noi abbiamo messo al centro la nostra azione il fabbisogno. Il fabbisogno non è altro che la traduzione della domanda del servizio che fa il cittadino all'azienda sanitaria.